Musica L'incidente mortale a Palermo muore una ragazza di 27 anni L'escavazione del porto di Mazzara si va verso l'indizione della gara d'appalto Convocato il congresso straordinario del partito democratico di Mazzara A Mazzara manifestazione gastronomica nell'ambito del Blue Sealand 2015 In Sicilia all'avvia da oggi la terza edizione di Green Game Calcio Tonfo Marsala successi per Mazzara e Folgore Buon pomeriggio e buon inizio di settimana a tutti voi Come di consueto apriamo il nostro notiziario con la pagina dedicata alla cronaca Incidente mortale la notte scorsa in Via Libertà a Palermo Nello scontro fra due auto avvenuto dopo la mezzanotte all'incrocio con Via Archimede Ha perso la vita una ragazza di 27 anni Emanuela Urso residente a Misilmeri Sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco, la polizia municipale e dai sanitari del 118 Che non hanno potuto far altro che constatare la morte della giovane Rimaniamo a Palermo perché un ragazzo di 29 anni è stato ucciso nella zona di Via Oreto Si chiamava Mirko Schattitano il servizio Sabato di sangue nel fine settimana a Palermo Due agguati in meno di quattro ore in uno dei quali ha perso la vita un giovane Salvatore Schattitano Detto Mirko di 29 anni Ferite invece altre due persone Luigi Cona 32 anni e Antonino Arizzi 23 Schattitano è stato assassinato in Via della Conciliazione nella zona di Via Oreto L'omicidio è stato ripreso da una telecamera di video sorveglianza di un negozio Le immagini sarebbero sfocate ma potrebbero aiutare gli inquirenti nelle indagini Il video mostra i due assassini che si danno alla fuga a bordo di un'automobile Accanto alla vittima si trova l'unico testimone dell'accaduto Antonino Arizzi Raggiunto da un colpo di pistola all'addome Il ragazzo è stato colpito per prima ma non era lui il bersaglio Dopo la fuga gli assassini colpiscono con 5-6 colpi di pistola Mirko Schattitano La vittima si accascia a terra quando viene raggiunta dai due che sparano un altro colpo alla testa Il 29enne si era sposato da poco Per Arizzi invece che si trova al policlinico la prognosi è di 30 giorni Nella notte il ragazzo è stato ascoltato dai carabinieri per ricostruire quanto accaduto intorno alle 20 di sabato sera Poche ore prima un'altra sparatoria stava per uccidere Luigi Cona a 32 anni nel quartiere Falso Miele Intorno alle 16.30 l'uomo si è recato al pronto soccorso dell'ospedale civico con 4 proiettili nella gamba Cona incensurato lavora alla rosticceria Il Bocconcino di Via della Lodola Stando a quanto ha raccontato ai carabinieri Cona sarebbe stato ferito dai due rapinatori che gli volevano portare via l'incasso Le sue condizioni non sono gravi ma ha perso molto sangue Al momento proseguono le indagini per cercare di capire se le due sparatorie avvenute a pochi chilometri di distanza siano collegati Sciacchitano e Cona erano entrambi incensurati con precedenti per denunce, resistenza e furto Ma stando alle indagini potrebbero essere finiti in un brutto giro Al vaglio degli inquirenti anche l'ipotesi di una punizione o di un regolamento di conti tra la malavita del quartiere Falso Miele L'omicidio di Sciacchitano potrebbe così essere una vendetta preparata per la sparatoria del pomeriggio Attimi di paura sabato scorso all'hotel La Concorde in Contrada Strasatti A Marsala riconvertito in centro per immigrati Un incendio si è scatenato nella lavanderia per un guasto elettrico ad una lavatrice Sono stati inizialmente gli operatori ad accorgersi delle fiamme e a provare a spegnerle con gli estintori Poi però sono stati allertati i vigili del fuoco di Marsala Nel frattempo i circa 50 ospiti della struttura sono scesi per strada L'incendio è stato spento in poco tempo e l'accaduto è stata informata la prefettura I guai per il marsalese Antonio Ignazio Correra sembrano non finire mai Per l'agente di commercio marsalese si profila l'ennesimo processo Questa volta per una presunta truffa in danno dello Stato L'avviso di conclusioni indagini preliminari, atto che solitamente prelude alla richiesta di rinvio a giudizio è stato notificato dalla sezione di Polizia Giudiziaria della Guardia di Finanza della Procura di Marsala ad Antonio Ignazio Correra 35 anni, agente di commercio marsalese nell'ambito del procedimento penale che lo vede accusato di bancarotta fraudolenta, patrimoniale e documentale e poi truffa in danno dello Stato Altro processo in vista dunque per un personaggio che in primo grado è già stato condannato a 3 anni e 8 mesi di reclusione per truffa in danno di aziende che producono e commercializzano fertilizzanti agricoli a un anno e 4 mesi per ricettazione a segni rubati e a 8 mesi per calugna L'accusa di truffa allo Stato è scattata perché Correra, affermando falsamente secondo la Procura, di essere vittima di usura e distorsione avrebbe tratto in inganno la prefettura di Trapani riuscendo ad accedere al relativo fondo di solidarietà incassando quasi 200.000 euro e con una parte della somma, 158.000 euro, ha comprato un'abitazione nella frazione Acquaviva di Montepulciano in provincia di Siena, che lo scorso 8 giugno, quando Correra fu posto agli arresti domiciliari fu sottoposta a sequestro preventivo In calcio al provvedimento restrittivo e a quello di sequestro dell'immobile toscano c'era la firma del GIP del Tribunale di Marsala, Vito Marcello Saladino L'inchiesta della sezione di Polizia Giudiziaria delle Fiamme Gialle è stata diretta dal procuratore Alberto Di Pisa e coordinata dal sostituto Nicola Scalabrini L'accusa di bancarotta fraudolente è stata formulata perché, a giudizio degli investigatori Correra avrebbe depoperato sistematicamente il patrimonio della fallita Chemical Green di cui l'arrestato era legale rappresentante prelevando dalle casse della società 212.749 euro nonché incassando una somma leggermente inferiore mai registrata nella contabilità delle entrate relative ai crediti vantati dalla società nei confronti di molti clienti Rischia la denuncia per abbandono di animale la donna che secondo quanto riferisce Enrico Rizzi capo della Segreteria Nazionale del Partito Animalista Europeo avrebbe abbandonato un cane dopo averlo legato con una corda ad un palo della luce L'episodio è avvenuto ieri sera intorno alle 20 a Trapani in via Canale Scalabrino Alcuni passanti avrebbero notato quanto stava accadendo e hanno allertato la polizia municipale che ha inviato sul posto una pattuglia L'abbandono degli animali, oltre ad incrementare il fenomeno del randagismo è un reato punito dalla legge 189 del 2004 L'animale è stato temporaneamente affidato ad un medico veterinario della provincia Parlamentari tedeschi in visita alla CIE di Milo e dalla Centro d'Accoglienza per Migranti di Valderici a fare gli onori di casa il prefetto di Trapani, Leopoldo Falco Meno controllori e più persone sul campo per accelerare le procedure riguardanti i migranti Lo ha chiesto il prefetto di Trapani, Leopoldo Falco nel corso della visita di parlamentari e dirigenti tedeschi della Link al CIE di Milo e al Centro di Accoglienza straordinario Villa Sant'Andrea di Valderice La delegazione era accompagnata dall'onorevole Erasmo Palazzotto vicepresidente della Commissione Esteri, della Camera e componente dell'Ufficio di Presidenza della Commissione d'inchiesta sul sistema di accoglienza Dopo una prima sosta al CIE i parlamentari e dirigenti del partito tedesco hanno visitato la struttura valdericina e parlato con alcuni dei migranti attualmente 230 La maggiore criticità lamentata è risultata essere quella legata alle lunghe attese in molti casi oltre i 12 mesi per le audizioni Dal 1 gennaio al 30 settembre di quest'anno dai dati ufficiali della Commissione che opera sul territorio trapanese emerge che solo il 39,39% dei migranti esaminati è stato trovato nella condizione di ottenere la protezione internazionale Le maggiori percentuali di rigetto delle istanze si registrano tra coloro che provengono dalla Nigeria, Pakistan, Afghanistan, Mali, Gambia, Guinea mentre la percentuale più alta di accoglimenti riguarda gli eritrei Il prefetto Falco ha risposto anche a domande sui numeri dell'accoglienza in provincia di Trapani sia in termini di persone ospitate nelle diverse tipologie di centri sia in termini economici Nel 2014 sono stati spesi circa 18 milioni di euro per l'accoglienza e quest'anno ci si avvia verso una cifra di circa 25 milioni di euro L'hotspot da realizzare a Trapani sarebbe una soluzione vincente funzionale al sistema, ha detto poi Falco ma dato il tantissimo lavoro che viene richiesto e qui lavoriamo per tutti è necessario un supporto in termini di personale magari anche da parte di associazioni umanitarie All'assessorato ai beni culturali della regione siciliana un concorso è stato cancellato, pensate, dopo ben 15 anni Sentiamo Sei concorsi cancellati a distanza di 15 anni e con i concorsi sfumano anche i 365 posti di lavoro che erano stati messi in palio E' quanto accada alla regione all'assessorato ai beni culturali a cui avevano presentato domanda oltre 325 mila persone Il Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale ha avviato infatti il procedimento per evocare i sei concorsi banditi nel 2000 quando alla guida dell'assessorato di Via delle Croci c'era Salvatore Molinello 6 su 19 concorsi una maxi infornata di assunzioni disposta in base ad una ricognizione del personale fatta all'epoca I concorsi riguardavano dirigenti e impiegati e le categorie in cui si ricercava personale erano geometri, architetti, storici dell'arte archeologi, bibliotecari e naturalisti figure di cui però oggi la regione non ha più bisogno e nei 15 anni trascorsi molti di quegli inquadramenti sono anche cambiati aumentando il caos Pesa anche la Spend Review visto che fra le motivazioni della revoca ci sono anche le norme della finanziaria di quest'anno che prevedono una riduzione dell'organico e che conferma nel blocco delle assunzioni i concorsi erano stati banditi per colmare vuoti in organico del centro regionale progettazione e restauro del centro regionale inventario e catalogazione delle soprintendenze di biblioteche e musei la maggior parte dei posti a concorso oggi annullati, i 120 erano per aiuto bibliotecario e documentarista due bandi riguardavano postazioni dirigenziali 11 posti da naturalisti e un solo posto da biblioteconomo per il quale si erano presentati in 6.340 Voltiamo pagina sono trascorsi i sette giorni previsti e l'assessorato regionale al territorio e ambiente non ha dato il parere sullo studio idrologico-idraulico del portocanale di Mazzara redatto dall'ingegnere Giovanni Rizzari ciò significa che c'è il via libera per l'indizione della gara d'appalto e dell'attuazione dei lavori di ripristino dei fondali del bacino portuale che interesseranno per il primo stralcio la foce del fiume Mazzaro del portocanale il commissario straordinario delegato degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico l'ingegnere Calogero Foti nei giorni scorsi aveva ricevuto lo studio idrologico-idraulico redatto dall'ingegnere Giovanni Rizzari che lo ha prontamente inviato al servizio 3 dell'assessorato regionale territorio ed ambiente entro sette giorni doveva essere reso il parere così non è stato e pertanto il parere si intende come vuole la legge inderogabilmente conseguito con esito positivo e pertanto la procedura d'appalto potrà essere finalmente avviata ricordiamo che l'opera è destinataria di un finanziamento di 2 milioni e 200 mila euro per il primo stralcio dei lavori di pulizia ed escavazione del fiume continua senza sosta la trattativa per trattenere la Ryanair all'aeroporto di Trapani-Birgi uno spiraglio per il mantenimento dei voli da e per Birgi ma a condizione che fino alla fine dell'anno venga garantita la puntualità nei versamenti per il co-marketing e questo in sintesi il resoconto della spedizione irlandese in casa a Ryanair di Pino Pace, presidente della Camera di Commercio di Giacomo Tranchida e Domenico Venuti rispettivamente sindaci di Erice e Salemi i tre amministratori si sono recati a Dublino dove hanno incontrato la rappresentante commerciale della compagnia Locosto nel corso del vertice è stato affrontato il tema legato alla prossima pianificazione e alla migliore incentivazione stagionale dei voli per l'aeroporto di Birgi nel corso della missione irlandese inoltre la delegazione trapanese a causa dei ritardi nei pagamenti nell'ambito dell'accordo di co-marketing sottoscritto tra la società AMS e il Comitato Camera di Commercio e Sindaci ha anche appreso del rischio di una penalità per lo scalo trapanese con meno voli e passeggeri del 2016 rispetto agli accordi che erano stati intercorsi con Airgest e che prevedono in totale 1,4 milioni di passeggeri e 32 tratte al momento però queste ipotesi sono state accantonate poiché Ryanair, grazie al recentissimo mandato di pagamento fatto grazie alle somme anticipate dalla Camera di Commercio e intravedendo nelle rassicurazioni che sono state fornite dal Presidente Pace e dai sindaci Venuti e Tranchida ha dato uno spiraglio per il mantenimento dei voli Il Sindaco di Marsala Alberto Di Girolamo ha incontrato a Palermo il Ministro della Giustizia Andrea Orlando alla presenza anche di Rosi Bindi Presidente Nazionale della Commissione Antimafia La riunione con il Ministro è servita per discutere di alcune tematiche importanti e prima fra tutte quella dell'apertura del nuovo Palazzo di Giustizia di Marsala già pronto per ospitare gli uffici giudiziari in atto ubicati nel Palazzo di Giustizia in Piazza Borsellino Convocato il Congresso Straordinario di Circolo del Partito Democratico di Mazzara perché in questo servizio Il Partito Democratico di Mazzara del Vallo venerdì scorso alla presenza del segretario provinciale Marco Campagna si è riunito in assemblea presso la propria sede sita in corso Armando Diaz 52 per avviare ufficialmente il percorso che porterà al Congresso Straordinario Cittadino Dopo aver ampiamente discusso si è convenuto di celebrare tale congresso nella giornata di domenica 20 dicembre 2015 A partire dai prossimi giorni si aprirà ufficialmente la campagna per il tesseramento dell'anno 2015 che determinerà i soggetti che vorranno essere protagonisti dell'assise congressuale L'assemblea al fine di avviare il tesseramento e tutte le fasi di organizzazione del congresso ha deciso di affiancare al segretario uscente un coordinamento composto oltre che dai componenti della segreteria provinciale Calcedonio Iemmola e Caterina Agate dai consiglieri comunali Teresa Diadema e Giacomo Mauro D'Aleandro Bianco e Vito Caradonna Compito di tale coordinamento sarà inoltre quello di curare in questi mesi tutti gli aspetti politici ed organizzativi che riguardano la vita quotidiana del partito Il segretario Francesco De Blasi dichiara ho avuto il prestigioso onore di guidare in questi ultimi anni il partito democratico di Mazzara del Vallo che nonostante ha visto bocciato il proprio progetto politico amministrativo con Pino Bianco sindaco risulta essere ancora oggi la prima forza politica in città Considero quella di questi anni un'esperienza che ha arricchito il mio bagaglio culturale e politico a seguito della quale spero si possa determinare un nuovo progetto politico che sia in grado di dare un'impronta diametralmente opposta a quella dell'attuale amministrazione comunale la quale in questi anni ha portato la nostra città nel baratro più totale Il segretario provinciale Marco Campagna ha infine espresso l'auspicio di un congresso che abbia al centro una proposta politica forte per il governo della città Uno studio congiunto della Willa Pesca e dell'Inail conferma come quello dei pescatori sia uno dei lavori più usuranti Conclusa positivamente a Mazzara del Vallo la prima fase del progetto nazionale Willa Pesca e Italwil la sicurezza nelle nostre reti volto ad accertare le condizioni di lavoro a bordo di un peschereccio Nei giorni scorsi un'equipe Inail diretta dal medico Francesco Draicchio con il supporto di Elio Munafo della consulta dei medici Italwil si è imbarcata sul peschereccio mazzarese Mediterraneo I per vedere da vicino in che modo si lavora su un'imbarcazione adibita alla pesca da banco A seguito di questa prima fase l'Inail inizierà lo studio dei dati raccolti con la strumentazione scientifica durante le battute di pesca riguardo gli aspetti ergonomici connessi con gli sforzi fisici ed eventuali posture incongrue assunte dai pescatori I risultati dello studio con il quale sarà verificata la possibilità di introdurre possibili miglioramenti ed eventuali modifiche alle procedure di lavoro al fine di garantire una maggiore tutela della salute di tutti i pescatori saranno presentati in un convegno nazionale organizzato dalla Willa Pesca nei prossimi mesi Le operazioni a bordo sono iniziate con il calare le reti a una profondità di 100 passi circa 75 metri sui fondali marini dove sono presenti i banchi di alghe Il pescato è stato portato a bordo ogni 50 minuti per essere subito selezionato Di solito le imbarcazioni di Mazzara del Vallo adibite a questo tipo di pesca restano in mare per lunghi periodi circa 30-35 giorni Da ciò si desumerebbe la situazione di sforzo fisico e psichico qui sono sottoposti i pescatori la cui attività tra l'altro spesso è costretta a fermarsi intorno ai 65 anni se non si registrano dolori e malattie reumatiche e polmonari di una certa gravità Il segretario generale di Will Trapani Tommaso Macaddino spiega che si tratta di un progetto di alta valenza poiché il lavoro marittimo è uno tra gli impieghi più usuranti anche se fino ad oggi non se ne è avuto riconoscimento ufficiale Ci auguriamo che questa ricerca ci permetterà in un futuro prossimo di presentare alle istituzioni dati scientifici che permetteranno la tutela sotto l'aspetto legislativo di chi lavora in mare Considerando le difficoltà operative e l'impegno gravoso a bordo sia dei tecnici che dei pescatori il segretario generale Willa Pesca Enrica Mammuccari e il presidente dell'Ital Will Gilberto De Santis hanno ringraziato tutti coloro che hanno collaborato per la buona riuscita dell'attività e in modo particolare la Capitaneria di Porto di Mazzara Tutto l'equipaggio è il comandante giacalone del Mediterraneo I Un esemplare di tartaruga caretta caretta è stato salvato ieri a circa 4 miglia a largo della costa di San Vitolo Capo L'animale in difficoltà è stato notato da un diportista che ha allertato la Capitaneria di Porto La tartaruga del peso di circa 35 kg aveva ingerito plastica e stava soffocando Condotta a riva è stata presa in consegna dai militari che hanno provveduto al suo trasferimento a Palermo al centro di recupero dell'istituto zooprofilattico Anche il Club Blu Artisanal prenderà parte all'edizione 2015 del Blue Sealand al Via fra pochi giorni Dal 9 al 10 ottobre si terrà a Mazzara del Vallo nell'ambito del progetto Club Blu Artisanal una manifestazione gastronomica finalizzata a far conoscere e promuovere le attività del progetto e al contempo permettere la degustazione di piatti della cucina siciliana e tunisina preparati con il pescato dei pescatori artigianali e dai ristoratori membri del club La manifestazione si terrà nell'ambito dell'evento Blue Sealand organizzato dal distretto produttivo della pesca L'evento di divulgazione sarà organizzato dalla Camera di Commercio di Trapani beneficiaria del progetto con la partecipazione dei partner del progetto Club Blu Artisanal finanziato nell'ambito del programma di cooperazione transfrontaliere Italia-Tunisia cofinanziato dall'Unione Europea prevede la creazione di una filiera corta di produzione e di acquisto identificata attraverso il marchio Club Blu Artisanal dove i pescatori di Trapani e Mazzara del Vallo in Sicilia e di Sidime Greg in Tunisia sono messi in condizioni di offrire direttamente ai ristoranti e agli hotelli di Trapani e Mazzara del Vallo in Sicilia e di Tunisi e Bizerte in Tunisia un prodotto tracciato e di qualità controllata a loro volta le attività legate alla ristorazione sono assistite in un percorso di valorizzazione promozione e commercializzazione dei servizi offerti rinforzando e valorizzando le specificità del territorio e la qualità all'interno della loro offerta culinaria obiettivo della manifestazione è di far conoscere la qualità del pesce Club Blu Artisanal e la bravura dei ristoratori membri del club accompagnando i visitatori in un viaggio nel mondo dei colori e degli odori della cucina mediterranea quale porta aperta sul mare con un saggio dimostrativo è stata inaugurata a Marsala la scuola di teatro del regista ed attore Massimo Pastore che dal 2012 è animatore del TAM il teatro abusivo di Marsala proprio il 5 ottobre del 2012 nasceva il collettivo di Pastore che in pochi anni ha formato molti giovani e che si struttura adesso come una vera e propria scuola di teatro nella scuola si faranno lezioni di edizione di storia del teatro e si studieranno anche tante altre materie l'Efebo di Selinunte torna per un breve periodo al parco archeologico sentiamo grazie ad una sponsorizzazione di un grosso gruppo assicurativo l'Efebo di Selinunte ritorna per un certo periodo nel parco di Selinunte lo ha ratificato una delibera di giunta che ha stabilito di allestire la mostra Selinunte accende lo spirito dell'arte greca in Sicilia percorrendo la via dei mulini e la regia trazzera che prevede l'esposizione del prezioso Efebo bronzo di Selinunte presso la casa del viaggiatore un avendo che catalizzerà gli appetiti visivi di tantissimi turisti e che si realizzerà sicuramente in sinergia con la stessa direzione del parco un trasferimento da Castelvetrano a Selinunte grazie alla stipula di una polizia assicurativa con la formula da chiodo a chiodo Alcrix sulla base della scheda di movimentazione con la valuta economica redatta dalla stessa sovrintendenza la Willis Italia Spa con sede legale a Milano che opera nella gestione dei rischi a livello internazionale in nome per conto di Lloydis offrirà la copertura assicurativa del prezioso reperto anziché al valore di mercato di 17.000 euro al prezzo simbolico di 1.000 euro è chiaro che nella stipula di tale contratto ci sono quelli che in gergo vengono chiamati gli sponsor benefit e cioè una serie di ritorne di immagine per la compagnia assicurativa La torta scolpita più grande del mondo ha la forma dell'Italia isole comprese ed è lunga 16,46 metri ieri a Lobby Show in Fiera Milano è stato dichiarato il nuovo Guinness World Records per 4 giorni hanno lavorato in 300 fra cake designer e pasticceri è larga 13,94 metri e raggiunge nel punto più alto 54 centimetri oltre 244 metri quadri di superficie complessiva è interamente realizzata in pan di spagna ricoperta di glassa e decorata con i più importanti monumenti italiani in fondente di zucchero fra gli artisti pasticceri anche la Santa Ninfese Caterina Settimo la rappresentante del territorio belicino si è cimentata nell'impresa realizzando alcuni monumenti delle principali città italiane in Sicilia al via oggi la terza edizione di Green Game scopriamo insieme di cosa si tratta parte oggi l'edizione siciliana di Green Game il progetto didattico itinerante rivolto agli studenti delle classi prima e seconda degli istituti superiori di secondo grado della regione Sicilia Green Game è un'iniziativa dei consorsi per il riciclo e il recupero dei materiali di imballaggio per coinvolgere e sensibilizzare gli studenti sul tema della raccolta differenziata e del riciclo degli imballaggi i ragazzi saranno protagonisti di una sana costruttiva e divertente sfida mediante l'utilizzo di apparecchiature interattive che coinvolgerà oltre 50 istituti superiori e quasi 15.000 studenti protagonisti nella prima settimana gli istituti superiori delle province di Trapani ed Agrigento a partire da oggi grazie all'interazione con il web i social network e le televisioni locali l'esperienza dei partecipanti diviene poi occasione di allargamento della conoscenza andando a toccare una platea molto più allargata moltissime le richieste di iscrizione da parte degli istituti scolastici che si sono dimostrati molto sensibili all'argomento trattato dal format il progetto ideato e prodotto dalla Peak Time approda anche in territorio siciliano il Green Game ha ricevuto molti riconoscimenti come progetto innovativo che coniuga cultura e divertimento ed è stato riconosciuto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri come il metodo innovativo per veicolare importanti informazioni e nozioni ai più giovani i problemi del comparto delle costruzioni saranno al centro dell'Assemblea delle Imprese convocate dalla CNA lunedì pomeriggio alla Camera di Commercio di Trapani la riunione si aprirà alle 17 nella sala conferenze del Palazzo Camerale con l'intervento del segretario dell'Associazione degli Artigiani Luigi Giacalone che ha invitato all'incontro i deputati regionali e nazionali oltre che l'assessore regionale alle infrastrutture Giovanni Battista Pizzo Nuovi orari di visita già da martedì primo ottobre e fino al primo novembre per la Grotta del Pozzo a Favignana e per il Castello di Punta Troia a Marettimo Alla Grotta del Pozzo si potrà accedere nel fine settimana dalle ore 10 alle ore 13 l'ingresso al Castello di Punta Troia a Marettimo invece viene assicurato nel fine settimana dalle ore 10 alle ore 16 Saranno i Radio Dervish a concludere la giornata inaugurale della quarta edizione di Blue Sea Land Expo dei distretti agroalimentari del Mediterraneo dell'Africa e Mediorente che si svolgerà dal 9 all'11 ottobre nella casba di Mazzara del Vallo Il 9 ottobre alle ore 22 nella suggestiva piazza San Michele si esibirà il gruppo internazionale i Radio Dervish cantano di uomini e donne appartenenti a spazi culture e tempi differenti di varchi tra Oriente e Occidente nel corso della loro esibizione oltre ai loro brani più famosi presenteranno il loro nuovo disco intitolato Caffè Jerusalem Nell'ambito del Blue Sea Land l'istituto euro-arabo in collaborazione con il distretto produttivo della pesca presenta nella giornata del 10 ottobre 2015 due importanti appuntamenti alle ore 19 sarà proiettato nella piazza San Michele il film di Rossella Schillaci Il limite il film descrive la vita quotidiana dell'equipaggio del Priamo peschereccio d'altura della flotta mazzarese nella stessa giornata alle ore 21 e 30 nella ex chiesa di Sant'Ignazio in piazza plebiscito sarà messo in scena il monologo teatrale O Mucani scritto diretto ed interpretato da Davide Dolores E come ogni lunedì che si rispetti non può mancare la pagina dedicata allo sport ancora una vittoria per così dire al photo finish ancora un duello sportivo chiuso con un distacco veramente minimo fra i due principali contendenti nell'ordine dei centesimi di secondo il campionato siciliano AC Sport Slalom 2015 si conferma combattuto ed emozionante Giuseppe Castiglione è riuscito ad imporsi in volata nel secondo slalom Monti Sicani città di Prizzi competizione automobilistica andata in scena fra due ali di folla numerosa su un selettivo tracciato di due chilometri netti ricavato alle porte del ridente comune sicano in provincia di Palermo ad una settantina di chilometri dalla capoluogo di regione parliamo di calcio a 5 non è stato un debutto da sogno quello del Real Futsal nel campionato di Serie C1 al palazzetto di Petrosino la compagine di Enzo Bruno ha dovuto fare conti con una Mabbonat risoluta e ben messa in campo che con un rotondo 5 a 0 ha portato a casa l'intera posta in palio la formazione giallo-blu tornerà al lavoro già questa sera per preparare al meglio la prima trasferta della stagione in programma sabato prossimo in casa dell'assoporto Melilli passiamo al calcio ancora una trasferta Amara in terra calabra per lo sport club Marsala 1912 in casa della Palmese la formazione di Rosario Pergolizzi è incappata nella seconda sconfitta consecutiva a decidere il confronto la rete di Foderaro giunta al minuto 22 della prima frazione e nel weekend appena trascorso si è giocato anche in eccellenza in particolare è andata in scena la quarta giornata del campionato nel girone ha questi i risultati Alba Alcamo Campofranco 1 a 1 Cus Palermo Dattilo Noir 1 a 3 Folgore Selinunte Profavara 2 a 0 Camarat Mazzara 0 a 1 Libertas Parmonval 1 a 0 Paceco Mussomeli 2 a 0 Raffadali Castelbuono 0 a 2 San Cataldese Gela 4 a 0 questa la classifica dopo le prime quattro giornate di campionato in testa a quota 10 punti ancora Dattilo Noir Paceco e Castelbuono in segue la Folgore a quota 9 poi Mazzara ad 8 punti San Cataldese a 7 Appaiate a quota 6 Cus Palermo e Gela Calcio poi Albalcamo a 5 Campofranco e Parmonval 4 punti Mussomeli Camarat Raffadali e Libertas a 3 Fanalino di coda la Profavara con 0 punti in classifica e allora andiamo a rivivere insieme tutte le emozioni del match fra Camarat e Mazzara andato in scena ieri allo stadio comunale dei Salaci Gentili telespettatori ben trovati dallo stadio dei Salaci di Camarata per questa gara di cartello tra Camarat e Mazzara il saluto da Noi del Platani con Rino Pitanza che vi terrà compagnia insieme a Salvatore Giuliano alle riprese e si comincia il Mazzara in avanti il lancio trovato direttamente da Gangitano e attenzione lì c'è già la prima azione in avanti esce palla a piede Guttilla ferma la palla ancora il Mazzara attenzione lì Erbini attenzione il tiro e c'è già la prima parata di Leonardo buona la risposta del numero 1 del Camarat buona la giocata del Camarat prima con Privitera adesso attenzione c'è l'occasionissima il tiro dalla distanza è stato di comparato Iacono è attento fischia l'arbitro parte Privitera dalla distanza il tiro a sfiorare il palo Iacono controlla occasione Camarat attenzione adesso Erbini buona la giocata il colpo di tacco c'è il tentativo dalla distanza termina alto il tiro di Rosella palla il Mazzara ancora il taglio il tentativo per Calì in mezzo non c'è nessuno a seguire occasione sfumata per il Camarat si ribalta la situazione attenzione adesso Erbini sulla destra Erbini mette in mezzo il pallone giunge a Leonardo parte il cross Cuiò di testa non colpisce bene termina fuori parte Cuiò praticamente un cross al rinvio il tiro di Privitera e c'è ancora batti e ribatti occasione alla fine Iacono sbroglia tutto il tiro di Privitera in altezza attenzione adesso c'è il tentativo del Mazzara e c'è il calcio di punizione attenzione al provvedimento dell'arbitro dovrebbe essere cartellino giallo è proprio così per Cuiò c'è Bono e Palazzo sul pallone il destro di Bono il sinistro di Palazzo è proprio così il tiro in rete incredibile gol di Palazzo si riprende con il secondo tempo i primi 45 minuti hanno visto il Mazzara chiuderli in vantaggio con il gol proprio al 44esimo di Palazzo rotta entra di forza più rotta in aria e c'è il fallo che avviene fuori dal rettangolo dell'area calcio di punizione Camerat ancora il Mazzara ma c'è l'attenzione ancora il tentativo il tiro termina alto ci ha provato Di Simone più Erbini buona la giocata ancora Erbini mette in mezzo e attenzione tenta la giocata di Fino e poi batti e ribatti lì con Di Simone prende palla arriva come accennato il triplice fischio del signor Mucera a Camerata ai salaci di Camerata Camerat 0 Mazzara 1 il gol al 44esimo di Palazzo il Camerat aveva provato più volte nel primo tempo a infrangere il muro mazzarese con diverse occasioni non sfruttate al massimo il Mazzara colpisce nel momento più opportuno per una squadra che gioca fuori casa ad un minuto dal termine del primo tempo e con questo risultato nel secondo tempo amministra in maniera egregia senza troppe difficoltà il Mazzara stesso il gol di vantaggio con un Camerat che ha provato qualcosa per arrivare al pareggio ma il risultato finale è Camerat 0 ma 0-1 e con questo risultato noi del Platani Rino Pitanza che vi ha tenuto compagnia insieme a Salvatore Giuliano vi dà l'appuntamento alla prossima occasione nel primo tempo dove il Camerat sicuramente meritava qualcosa in più poi il gol che è arrivato dal Mazzara forse nel momento meno opportuno per una squadra che era chiamata a vincere non lo so un calcio di planazione impeccabile che hanno tirato loro non so se c'era la punizione ma non sto a guardare questo noi abbiamo sprecato tanto il primo tempo e abbiamo pagato caro credo che abbiamo fatto la partita noi gli avversani hanno giocato con questi lanci lunghi che poche volte ci hanno messo in serie a difficoltà però alla fine il risultato dice che il Mazzara ha vinto 1-0 ecco mister manca qualcosa ancora a questo Camerat ci manca il gol perché siamo una squadra che costruisce tanto che fa tanto gioco abbiamo tante occasioni ma ci manca ancora la cattiveria sottoporta di realizzare quello che produciamo il pericolo più grande in questi momenti è abbattersi cosa che ovviamente la sua squadra non farà no assolutamente io la squadra l'ho vista viva fino all'ultimo ha lottato fino all'ultimo purtroppo ancora non riusciamo a sbloccarci di davanti e stiamo pagando caro questo momento un Mazzara cinico che ha colpito forse nel momento in cui il Camerat avrebbe meritato qualcosa in più sì oggi siamo stati molto concreti abbiamo fatto gol nel momento migliore dal Camerat poi nel secondo tempo potevamo fare il raddoppio alla fine abbiamo rischiato per il pregio nell'unico tiro in porto dal Camerat ecco è un Mazzara che non si nasconde certo quali sono le ambizioni sì le ambizioni iniziali erano quello della vittoria del campionato poi la rosa diciamo che è stata un pochettino cambiata quindi siamo alla ricerca di qualche rinforzo per accontentare la piazza ecco alla fine il Mazzara nonostante la bella prova dello scorso anno dove ha raggiunto le semifinali nazionali quest'anno sarà l'anno buono ci crede il mister? noi giochiamo ogni domenica per portare i tre punti a casa poi naturalmente ci sono gli avversari come oggi è stato uno studuro il Camerat in questa categoria nessuno ti regala nulla quindi noi entriamo in campo sempre per vincere poi naturalmente ci sono pure gli avversari sempre in eccellenza questa vittoria consecutiva invece per la Folgore Selinunte che ieri pomeriggio ha piegato per 2-0 la Profavara noi vi lasciamo con gli highlights e le interviste post partita della gara il prossimo appuntamento con il notiziario domani alle 14 grazie e arrivederci le certezze le certezze di una squadra a reduce da due vittorie consecutive quest'oggi si scontrano con le insicurezze di una squadra ancora a caccia dei primi punti in classifica questo è lo stadio Paolo Marino di Casselvetrano questa è Folgore Selinunte Profavara Giulio Giordano si gioca in un fazzoletto di terreno Giordano riesce a far filtrare la sfera attenzione a Pasquale Galluzzo all'interno dei 16 metri avversari lascia partire il cross Valerio Molici è buono il campanile e poi c'è il gol il gol della Folgore Giulio Giordano prima rete con la maglia rossa nera per lui Pasquale Galluzzo prova a cercare lo spazio per andare al tiro lo effettua il pallone che sibila alla destra del palo della porta difesa da Priolo punta l'avversario Scappini gioco di gambe prova a disorientarlo poi parte il traversone Bruscia arriva la deviazione poco convinta però da parte di Rosario Licata probabilmente Gaetano Longo ha già in serbo qualche mossa il traversone di Cusumano esce in maniera avventurosa Fulvio Montagna poi una conclusione davvero inguardabile Filippo Scappini pallone nella metà campo avversaria Galluzzo va a lottare ancora Galluzzo pallone all'interno dell'area di rigore Salvatore Bruscia prova ad evitare un avversario la conclusione il sinistro ribattuto da Priolo che poi nuovamente collegati dallo stadio Paolo Marino di Castelvetrano le due formazioni sono già schierate sul rettangolo di gioco inizia in questo istante il secondo tempo Bruscia in mezzo a un paio di avversari pallone che passa Rosario Licata si libera bene Licata poi con il destro ci prova lui palla che non trova il bersaglio grosso prova a sondare per via centrali vede il corridoio per Bruscia all'interno dell'area di rigore la conclusione con il piatto sinistro è davvero debole pronti ad infilarsi all'interno dei 16 metri avversari parte il sinistro di Licata il colpo di testa di Attarelli non trova lo specchio della porta pallone rimesso al centro Giulio Giordano lo controlla attenzione Manuela Raineri l'esterno del sinistro alto sulla traversa alla ripartenza della Profavara con Grippi ancora il numero 15 lo spioventa all'interno dell'area di rigore per Buttigè lascia sfilare la sfera però il numero 13 non è riuscito a coordinarsi palla al limite adesso per Cusumano si coordina lui la prima conclusione nello specchio della porta della Folgore da parte della Profavara arriva al novantesimo per Salvatore Bruscia la posizione è buona ancora il numero 9 all'interno dell'area per Giulio Giordano fraseggiano i due e c'è il gol Salvatore Bruscia e Giulio Giordano non si è capito chi ha tirato Magno il direttore di gara consulta il cronometro e arriva il triplice fischio terza vittoria consecutiva per la Folgore Giulio Giordano hai trovato il primo Barra anche secondo gol con la maglia della Folgore una vittoria che porta il tuo nome sì felicissimo per questi due gol ma è anche felice per la prestazione della squadra ci stiamo allenando bene e cercheremo di fare del meglio oggi hai trovato il gol ma già domenica scorsa a Campofranco sei stato un grande protagonista è un momento di forma brillante il tuo in questo momento sì è un gran momento spero di migliorare giorno per giorno e di continuare così fino alla fine adesso siamo pronti per la prossima partita e speriamo bene Alberto Amoroso la Folgore festeggia la terza vittoria consecutiva una vittoria importantissima per il proseguo della stagione diciamo che erano tre punti che volevamo naturalmente per continuare il trend positivo da cui provenivamo diciamo che non è una partita facile io alla vigilia come ho detto pure ragazzi sono delle partite più difficili perché probabilmente questa è una squadra che affrontavamo insomma tra le più difficili che potevamo avere in questo momento perché veniva da una situazione diciamo di classifica che è quella che è anche se stiamo solo all'inizio però si sa bene che insomma affamata di punti quindi si è venuta a chiudere con i giusti giusti caroni difensivi noi siamo stati bravi a sbloccare il risultato dovevamo essere un po' più bravi come dire nella fase offensiva dopo il gol del vantaggio a mantenere la profondità a mantenere un pochettino il possesso sono tre quarti ma va bene così diciamo che insomma la squadra ha potuto sommato anche se in alcune situazioni abbiamo ritrovato il baricentro anche per merito del profano che ha spinto alla ricerca del pregio diciamo che non si è disunita abbiamo fatto come dire delle cose abbastanza interessanti altro un po' meno sulle quali dobbiamo riflettere e migliorare io ho visto una partita che noi abbiamo tenuto aperta diciamo a 5-6 minuti dalla fine abbiamo preso un gol su un ennesimo errore nostro poi la partita l'abbiamo giocata sappiamo benissimo quali sono le nostre diciamo deficienze e sono viste anche lampante in questa partita però ripeto ho visto una buona una buona folgore e noi eravamo stati bravi a tenere la partita aperta anche se diciamo insieme alla fine anche se dovevamo in certe situazioni essere più determinati grazie